Per costruire un po' il percorso seguito per arrivare alla costituzione di questa stazione del parco del Delta del Po bisogna rifarsi ai primi del Novecento. Qui il consorzio della bonifica Renan con gli interventi di regimazione idraulica per bonificare ampi territori della bassa pianura bolognese attorno al 20-25 costruì due grandi casse di espansione, Cassa Campotto che è alle nostre spalle e Cassa Valle Santa che è leggermente spostata rispetto a noi, che sono il vero cuore della zona protetta. Queste aree di superficie molto estesa, Cassa Campotto è oltre 400 ettari, Valle Santa 250, nel corso degli anni ovviamente dopo gli interventi dell'uomo si rinaturalizzarono creando un ambiente di grande interesse dal punto di vista naturalistico soprattutto per la fauna acquatica, la fauna ornitica e prevalentemente gli anatidi. A partire da quegli anni il consorzio della bonifica Renan fino al 1973 all'interno di Cassa Campotto ha gestito sotto forma di riserva di caccia l'affitto dell'area per l'attività venatoria cacciando gli acquatici dalle botti. Era una pratica e tuttora in uso nelle nostre zone, che nelle zone paludose o costruite artificialmente o naturali, i cacciatori allestiscono appostamenti all'interno di vere e proprio botti e lì si pratica la caccia agli acquatici in un certo periodo dell'anno. Allo scadere nel 1973 di questa autorizzazione all'esercizio venatorio, la popolazione locale ma anche la comunità più larga cominciò a maturare la convinzione di dover proteggere e salvaguardare questi ambienti anziché praticare la caccia, proteggerle e mettere a disposizione dei ricercatori scientifici e della comunità. Vennero messe in piedi diverse iniziative, comprese manifestazioni organizzate con cortei con la rappresentanza del mondo della scuola, del mondo dell'associazionismo ambientalista e addirittura del mondo venatorio. Persino le associazioni venatorie con loro rappresentanti, assieme ai bambini delle scuole e ai rappresentanti delle associazioni più significative a livello nazionale WWF Ulippu sfilarono lungo la strada provinciale che da Argenta va a Campotto e sugli argini di Cassa Campotto con cartelli in mano sui quali erano scritte frasi tipo «No alla caccia, sì alla protezione», «Va al Campotto, passeggiate, no fucilate», slogan di questo genere proprio per sensibilizzare ulteriormente e sollecitare soprattutto il Consorzio Bonifica Renana a cambiare posizione. Nel 1977 in agosto venne deliberata da parte dell'amministrazione provinciale la perimetrazione dei 1624 etteri del territorio protetto e da lì partì con un accordo stipulato a tre, Comune di Argenta, Consorzio Bonifica Renana, Amministrazione Provinciale di Ferrara, il percorso vero e proprio di salvaguardia e fruizione.